Ho fatto anche delle proiezioni per te, per esempio una dipendente full time, quindi 40 ore a settimana, può arrivare a costarti circa... Ma quanto costa assumere un assistente? Questa è la domanda che mi fate sempre e di cui tutti si preoccupano, per cui in questa seconda video assistant newsletter ho pensato di intervistare un caro amico che è un consulente del lavoro. Io oggi intervisto per voi Massimiliano Scorza, è un consulente del lavoro con una particolare attenzione al benessere delle persone. Ho deciso di intervistarlo perché condividiamo la stessa visione del mondo del lavoro di oggi e di come inserire al meglio una persona all'interno del proprio organico, sia esso un piccolo team fatto di due o tre persone, sia un assistente a fianco di un libero professionista. Mi auguro che tu in questo video possa trovare tutte le risposte riguardanti l'assunzione di personale, ma soprattutto tutte quelle risposte che ti possano mettere tranquillo e che ti possano far capire che assumere qualcuno non è solo un costo ma un grande vantaggio. Per cui non rubo più tempo, andiamo all'intervista. Ciao! Massimiliano, tu sei un consulente del lavoro. Voglio farti subito la domanda, la domanda che tutti mi fanno e di cui tutti vogliono conoscere la risposta. Ma quanto costa assumere un assistente? Assumere un assistente per un consulente finanziario significa fargli un contratto di lavoro subordinato che potrebbe avere un costo pieno fin dal principio e per darti un'idea ho fatto anche delle proiezioni per te. Per esempio, una dipendente full time, quindi 40 ore a settimana, può arrivare a costarti circa 28.000 euro l'anno che, rapportato su 12 mesi, stiamo parlando di circa 2.300 euro. È chiaro che una persona con un impegno orario inferiore avrà un costo proporzionalmente più basso. Questo costo però lo puoi ottimizzare attraverso un percorso di crescita che può passare da un contratto iniziale che può essere di inserimento come un tirocinio formativo che ha durata massima di 6 mesi e da un costo totalmente nullo a un percorso fino a massimo di 3 anni con un contratto d'apprendistato. Ecco, in questo caso il costo è nettamente più basso. Arrivi ad avere un costo annuale di circa 16.000 euro. Ti ringrazio, Massimiliano, per questa domanda-risposta secca. Adesso possiamo veramente iniziare la nostra intervista perché per me le persone non sono affatto il numero che, come dire, del costo in busta paga o del costo a bilancio, che sia quello di un libro professionista o di una piccola azienda, sta di fatto che c'è molto di più ed è per questo che io ho deciso di intervistare te, Massimiliano, oggi perché sei un consulente del lavoro che io ritengo che guarda al futuro e che guarda al futuro del suo settore, ovvero il mondo del lavoro. E come prima domanda, infatti, ti volevo chiedere questo. com'è il mondo del lavoro oggi, com'è cambiato post pandemia, che cosa cercano le persone oggi e com'è dovrebbe essere il rapporto datore di lavoro e dipendente oggi? Intanto ti ringrazio. Grazie per avermi coinvolto e per le parole bellissime che ho usato per introdurmi. Sì, sono un consulente del lavoro e mi occupo di gestire le risorse a 360 gradi. Ho un focus particolare sul welfare aziendale, quindi guardo tutta la parte relativa al benessere lavorativo e questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché oltre a una normale gestione è la cosa fondamentale per me oggi e quindi già sto rispondendo ad una parte della tua domanda ciò che è avvenuto e che sta avvenendo post pandemia riguarda esattamente il benessere lavorativo. In passato il mercato del lavoro era totalmente differente. Oggi le persone hanno molta più possibilità di valutare le alternative che ci sono, di scegliersi. Notizie molto recenti e articoli di giornale molto recenti parlano della selezione che oggi fanno i candidati piuttosto che le aziende. Perché? Perché le informazioni corrono molto velocemente, le informazioni sono a disposizione di tutti e le aziende virtuose esistono, sono sempre esistite, ma probabilmente questa cultura si sta sviluppando sempre di più e quindi le persone fanno di tutto per cercare di intercettare queste proposte. Infatti, quello che cerco di fare io per distinguermi anche all'interno del mondo del lavoro è proprio questo, cercare di trasmettere questo tipo di cultura, cultura legata alle necessità di non limitare un rapporto di lavoro a un dare avere. Mi dai lavoro, ti do una remunerazione che stabilirà qualcun altro per me, la contrattazione nazionale fa questo per noi e arrivederci e grazie. No, le persone vogliono sentirsi parte di un progetto. E ti garantisco che creare welfare in azienda, welfare significa benessere in inglese, non per forza equivale a corrispondere benefit, no? Che poi tecnicamente è vero che sfocia anche in questo, ma creare welfare in azienda e quindi benessere significa anche farlo a costo zero. E cioè coinvolgere e far sentire parte di un progetto i candidati, i lavoratori che fanno parte della nostra realtà. Pensare di risparmiare sul costo del lavoro, di non investire su quella che è poi in molti casi la risorsa più importante, cioè la persona, perché ha a che fare con i nostri clienti, perché è il front end della nostra attività. Quindi cercare di risparmiare su questo è la cosa più sbagliata che ci può stare. È molto più utile investire nelle persone che rappresenteranno poi la crescita della nostra azienda e gratificarle fin dal principio, già dal primo approccio, nella fase di colloquio e di selezione. È importantissimo investire bene per trovare le persone giuste. Perché parliamoci chiaro, il fatto che le persone non vogliono lavorare è un qualcosa veramente che ormai ha di diceria popolare, perché le persone che cercano lavoro, se lo fanno è perché vogliono lavorare. Il problema si crea quando? Quando probabilmente entrano all'interno di realtà dove lavorare è veramente difficile. Io a volte mi trovo a fare domande agli imprenditori quasi al contrario. Una volta descritta la realtà aziendale, i processi, le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, poi faccio questa domanda alla fine. Ma tu lavoreresti in una realtà dove c'è questo tipo di clima, di disorganizzazione, di mancanza di obiettivi? La risposta è chiaramente no. E allora come pensi di trovarla se tu per primo non ci lavoreresti mai? Non è una questione di mancanza di voglia generalizzata, ma è semplicemente che a volte, ed è qua spesso una lancia a favore degli imprenditori, dei datori di lavoro, a volte mancano le competenze per questo, no? L'ufficio del personale ti garantisco che è sempre l'ultimo sul quale vengono posti investimenti. Il budget per l'ufficio del personale è sempre l'ultimo. Mi trovi d'accordo, ma totalmente d'accordo, ma sia per esperienza personale dove l'ho verificato, ma ritengo che dopo la pandemia questa cosa ci sia accentuata, nel senso che mentre prima sto tran tran che dove appunto diciamo sempre tira commerciale e vendite in qualsiasi azienda, no? Perché alla fine sono i ricavi a portare avanti le aziende, quindi ci sta che ci sia un occhio di riguardo per questo dipartimento, ma il problema è che la pandemia ce l'ha dimostrato, cioè la gente non ce la fa più, la gente ha toccato con mano una qualità della vita differente in quegli anni e abbiamo visto che le cose si possono fare lo stesso, che non serve che vengo in azienda, che non serve che vengo insomma a fare tutta una serie di cose che possono essere risolte con una call, con una mail, con un'organizzazione migliore e questo io lo sento anche quando pubblico un'offerta di lavoro e mentre una volta mi arrivavano 40 curriculum con solamente una job su LinkedIn per capirci, adesso me ne arrivano quattro, perché ovviamente, soprattutto nel mio caso, infatti poi vorrei anche che ci riportassimo più sullo stato del libero professionista, quando tu mi chiedi di venire tutti i giorni in ufficio per farti la receptionist o comunque l'accoglienza e quindi dentro degli orari, se non ho un piano di crescita, se non sono coinvolta, se non ho degli obiettivi, se non ho un motivo per il quale fare questo sforzo, diciamo, non ci vengo, ma proprio non ci vengo, perché dovrei venire? Guarda, adesso ti dirò una cosa un po' forte probabilmente, però già una proposta di lavoro all'interno della quale non è prevista una flessibilità d'orario e la possibilità di organizzarsi il lavoro per obiettivi e quindi garantire una presenza già la dice lunga. Ecco perché, secondo il mio modesto parere, oggi tu ricevi un decimo dei curricula rispetto al passato, perché la gente oggi sa benissimo che c'è la possibilità di intercettare, di trovare invece realtà che te lo permettono e io ti dico che posso garantirti anche per esperienza personale, perché nella mia di realtà in nove persone lavoriamo assolutamente per obiettivi, a me non interessa se per fare una cosa veramente ci metti la metà del tempo, l'importante è raggiungere gli obiettivi e fondamentalmente nel campo professionale dei servizi in generale la cosa importante qual è? È il servizio, la qualità del servizio che offri e il supporto alla tua clientela. Se questo viene fatto e viene fatto bene non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema legato all'impegno orario, perché se una cosa viene fatta e viene fatta bene finisce lì. Il problema qual è però? È che probabilmente a monte non c'è un processo di verifica degli obiettivi raggiunti, verifica delle tempistiche con i quali si raggiungono gli obiettivi, perché magari una persona potrebbe essere potrebbe essere affogata dalle pratiche e tu non hai le competenze o le capacità per riuscire a capire il perché. Quindi anche da un annuncio di lavoro si capisce esattamente l'organizzazione che ti sta proponendo quel contratto di lavoro. E non entro nel merito dell'indicazione RAL, non l'indicazione RAL, sai che gli argomenti su questo sono all'ordine del giorno, anche su LinkedIn, ci dovrebbe essere indicata una caratteristica piuttosto che un'altra. Io ti sto offrendo un discorso più ampio, leggendo una proposta di lavoro tu capisci quasi esattamente che ha di fronte. Però devo dirti che gli imprenditori, i libri professionisti vanno formati su questo, non sono cose scontate. E anche qui, Beatrice, ti dico che io in prima persona ho cambiato la mia mentalità. Io anni fa non ero così, quando lavoravo solo non ero così. Ma è chiaro che quando passi dal lavorare da solo a farti affiancare, tu cerchi nella persona che hai vicino le competenze che hai tu, la propensione al lavoro che hai tu, ma quella persona non può essere la tua fotocopia. E allora devi cominciare ad approcciare diversamente. E io ho faticato all'inizio. Ho faticato ma ho risolto. Come? Facendomi aiutare. Perché c'è chi fa di questo un lavoro. E quindi ti aiuta nel gestire gli adempimenti, gestire il tempo, gestire le pratiche, organizzare il lavoro e organizzare la mentalità. perché quando tu una mattina non vedi alle 9.00 operativa la persona che hai vicino, che dovresti avere vicino, ipotizziamo in un rapporto di lavoro da remoto, quando non la vedi operativa, non deve essere mai il primo pensiero ah vedi io sto qua operativo, anzi magari da un'ora e mezza e lei se la prende con calma. Non può essere questo il pensiero. Perché? Perché magari se hai l'organizzazione per verificare le attività scopri che il giorno prima si è portato avanti con le attività e ti ha chiuso dei task che non erano previsti. E approcciare male, approcciare male sin dal principio, quindi dalla mattina stessa, cambia la giornata alle persone. Perché io ti garantisco, tu prima hai parlato di partecipare ad uno scopo aziendale. È la cosa fondamentale. Perché altrimenti se non coinvolgi una persona, se non la fai sentire parte dello scopo, il suo unico scopo, lo sai quale sarà? Guadagnare. Quando invece il guadagno deve essere concepito come un mezzo, non come lo scopo finale. Lo scopo finale della mia collaboratrice deve essere quello di fornire ai miei clienti, anzi ai nostri clienti, un servizio sempre migliore. E deve essere contenta insieme a me quando acquisiremo un nuovo cliente. Se invece io questo coinvolgimento non glielo do, per lei l'obiettivo sarà quello del set del mese di ricevere il bonifico. E che cosa pretendiamo a questo punto? Che cosa otteniamo? Otteniamo gente che è disposta a concederci delle ore e ottenere una remunerazione. E il consiglio che posso dare ad altri professionisti di qualunque natura, consulenti finanziari, qualunque altro tipo di consulente, è che farsi affiancare da persone in qualunque forma, e non sto dicendo per forza un'assunzione, perché tu ti puoi far affiancare anche da professionisti esterni nella gestione delle pratiche. Farti affiancare e delegare le attività ti fa ottenere fondamentalmente due cose, possiamo argomentare, ma sono due le cose. Più tempo, che c'ha un enorme valore, e maggiore guadagno perché magari riesci a fare più attività, più pratiche. Ma devi saperlo valutare. Se io affido ad una persona che assumo, ipotizziamo che abbia voglia di inserire nella mia realtà una nuova persona, metto in conto che, magari anche giovane, sotto i 30 anni, ipotizziamo, potrei fargli un percorso molto interessante, partendo da un tirocinio, passando per l'apprendistato, e arrivando a un contratto a tempo indeterminato, quindi stabile, potrei pensare che una parte iniziale di questo percorso di inserimento sia totalmente un investimento per me, che inizialmente non mi fa guadagnare tempo, è chiaro, perché devo trasmettere delle informazioni, quindi nella parte iniziale è un investimento, in una fase intermedia mi diventa guadagno di tempo perché delego attività, ed una terza ed ultima fase è una fase dove invece mi aiuta a sviluppare business e quindi aumentano le entrate. Se siamo bravi a gestire tutto questo processo, il risultato finale quale sarà? Tirata una riga? Avrò maggiore tempo a disposizione, e potenzialmente farò più attività e guadagnerò di più. È difficile? Cosa è facile in questa vita? Un'altra domanda Massimiliano che mi viene da farti proprio per questo. Spesso e volentieri io mi trovo di fronte a persone che mi chiedono il ritorno sull'investimento, ma proprio perché io sono dell'idea che quando si decide appunto di assumere una persona attraverso il percorso che hai descritto tu, che trovo che sia il migliore, tirocini o prendi stato, e poi un contratto di lavoro, uno perché questo viaggio fa sì che appunto le persone vedano un futuro per loro all'interno dell'organizzazione, ma poi io ritengo che sia questa la chiave anche per il libero professionista, cioè se tu stesso non vedi te fra tre anni e quindi non hai degli obiettivi per te stesso da raggiungere, quindi qual è il professionista che vuoi essere tra tre anni? Perché comunque per farlo l'hai detto bene tu serve tempo, se vuoi crescere serve tempo e il tempo oggi come oggi possiamo solo comprarlo attraverso altre persone, quindi necessariamente se si vuole crescere altrimenti diventa un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso, quello della gestione del tempo, a un certo punto per quanto lo puoi gestire non ne hai più, cioè sei cappato, 24 ore abbiamo in un giorno, quindi soprattutto quando vendiamo il nostro tempo e la consulenza vende tempo e l'unico modo per fare altro tempo è comprarlo e sapere quanto vale il mio tempo per capire che cosa delegare a un'altra persona, ecco, quando ti trovi davanti a un libero professionista come lo coinvolgi in questo cominciare a ragionare verso di sé e il team che vuole andare a costruire perché è evidente che il primo anno non dico, cioè il primo anno certo è un costo nel senso che tu devi formare questa persona, devi capire se soprattutto non si è impegnati abbastanza nella selezione devi capire se poi è la persona giusta perché al colloquio è una cosa poi lavorare è un'altra quindi perché io sono una promotrice di una selezione fatta coi fiocchi perché preferisco selezionare bene che lavorare dopo perché se tu selezioni bene il lavoro è mezzo fatto voglio dire e anche conoscersi sono promotrice anche del fatto di conoscersi per sapere che tipo di personalità ti puoi mettere a fianco soprattutto se stiamo parlando di un assistente personale un assistente che prenderà in mano i miei clienti un assistente cioè quando si è un libero professionista cioè è una vita che tu lavori da solo che ti sei fatto tutto da solo hai sempre gestito tutto da solo probabilmente non ci sono procedure perché le procedure ce le hai tutte nella testa ogni cliente le hai gestito differentemente ogni cliente gli hai fatto una politica differente ecco come fa a non essere la selezione il punto di partenza più importante e poi avere una visione di almeno tre anni questo è la difficoltà che io ho nel coinvolgere i liberi professionisti quando si parla appunto di delega e di inserimento di un assistente allora hai toccato diversi punti alcuni li avevamo già affrontati e concordo con te in tutto quello che hai detto li avevamo già affrontati sai perché perché secondo me perché quando tu hai detto no si parla di di investimento e ci dovrebbe essere la formazione da parte del professionista quantomeno in uno studio torna questo discorso in quello che facevamo poco fa relativamente al riuscire a coinvolgere le persone all'interno di un progetto ma se non siamo i primi a aver costruito dentro di noi un progetto e su cosa ti coinvolgo esatto questo è il punto se io cerco un compagno di viaggio per fare un viaggio quest'estate e non ho la più palida idea di dove andrò ma vorrei fare soltanto un viaggio che cosa attirerò gente che vuole andare in montagna ma poi quando scoprirà che io vado al mare non è che sarà proprio contento oppure il contrario se invece ho un piano di viaggio ben definito beh probabilmente qua torno poi all'altro punto cioè la selezione beh la selezione quantomeno mi limiterà a quelle persone che vorranno fare quel tipo di viaggio se io voglio partire andare in Norvegia quest'estate a prendere un po' di fresco beh probabilmente le persone che vogliono che amano il mare non si candideranno ma se non lo so io che il viaggio sono quello che lo costruisce io professionista sono il tour operator io costruisco il viaggio come faccio a trovare le persone che acquistano il mio pacchetto e che quindi decidono di percorrere questo viaggio insieme se nemmeno io ce l'ho chiaro questo le persone non vogliono più perché ripeto in passato si lavorava per necessità di dover guadagnare soltanto dei soldi oggi si lavora sì per necessità chiaramente perché il denaro ci serve per poter vivere ma la scelta si è ampliata l'orizzonte è molto più ampio le realtà che condividono obiettivi esistono e io candidato scelgo quelle piuttosto che altre e quelle rimangono a secco oggi come oggi ci troviamo di fronte a questa situazione dove sono tantissime quelle che stanno rimanendo a secco che non ricevono proposte da parte dei candidati e che quindi si lamentano del fatto che la gente non vuole lavorare allo stesso tempo ti dico che non investire nella selezione così come non investire nella remunerazione perché quando tu una persona la paghi bene perché dentro di te quello è un valore congruo sai la cosa che mi dicono spesso quando devono assumere per la prima volta la cosa che mi sento dire sempre è da chi da chi ha sempre lavorato da solo però non nelle aziende strutturate ho pensato di assumere una persona di dargli mille euro al mese la mia osservazione è mille euro al mese in base a cosa? è tantissimo io quando ho iniziato guadagnavo molto meno oh mio dio oh mio dio abbiamo quindi stabilito un'asticella che per noi è la cosa giusta ma come può essere? questa è una tua aspettativa è una condizione nel mio caso sono le stesse persone che tentano di difendere le persone dall'inflazione quindi spiegami un attimo quando hai iniziato tu quindi stiamo parlando di 40 anni fa mille euro erano parte che non c'erano mille euro ma cioè ma il rapporto dove sta? ma poi mille euro rispetto a che cosa? brava ma così poi perdi credibilità quindi è molto importante è importante il messaggio che mandi fuori è importante come lo porti avanti il rapporto una volta che la persona è entrata è importante tutto ecco perché purtroppo ma lo sai secondo me perché non si ecco torniamo al concetto del mancato budget sul fisico del personale e di conseguenza ai pochi investimenti sulle persone perché? perché probabilmente non tutte le persone hanno un guadagno diretto tu hai parlato di una figura ben precisa prima che sono i commerciali ma per il commerciale è facile mi chiude un contratto bene allora Mario mi ha portato 100 mila euro di fatturato ma dietro a Mario ci sono altre persone che quell'azienda te la portano avanti senza le quali non avresti l'assistenza non avresti la gestione amministrativa non esisterebbe l'azienda quindi Mario che ti ha chiuso il contratto è semplicemente l'attaccante che l'ha messa che l'ha messa in porta ma l'attaccante da solo non gioca non gli arriverà mai la palla all'ino non è che il difensore se non segna non porta vantaggio all'azienda anzi probabilmente è molto più importante la costruzione molte volte le aziende riescono a vendere anche senza un finalizzatore ma se non hai la qualità del prodotto o servizio e se non hai l'assistenza di qualità al cliente non va da nessuna parte quindi concordo con te scusami ti ho interrotto tranquillo concordo con te sull'importanza anche in fase di selezione anzi forse ancora più importante perché perché sempre ragionando per metafore dobbiamo capire qual è la persona giusta che sposa insieme a noi il progetto che ha la voglia di condividere lo stesso scopo e prima di uscire con un annuncio bisognerebbe fare un'analisi interna capire quindi tutto il discorso che facciamo prima degli obiettivi e del progetto personale tu hai parlato di come si vede un professionista a tre anni bravissima a tre a cinque quello che sia poi il tiro lo aggiusti non è un problema ma se non hai tu l'idea di dove vuoi arrivare chi coinvolgerai lo coinvolgerai non per lo scopo perché non esiste ma semplicemente perché ha necessità di lavorare e a quel punto tu hai risparmiato sulla selezione probabilmente risparmierai sulla remunerazione perché ti accorderai su un qualcosa no di ma anche di poco regolare a volte e allora a quel punto può anche andare bene ma non potrai mai lamentarti perché è stata una scelta se invece investi nel trovare il progetto capire l'obiettivo della tua attività nel medio medio lungo termine stilare l'identikit della persona ideale che vorresti vicino poi potresti avere più o meno difficoltà a trovarla ma l'identikit ce lo devi avere investire nel trovarla attraverso qualunque tipo di strumento in autonomia facendoti aiutare devi investire nel trovarla e pagarla nel modo più giusto possibile tendenzialmente io consiglio sempre un coinvolgimento anche da un punto di vista di riconoscimento sugli obiettivi perché parliamoci chiaro le persone quando sono coinvolte anche a livello economico e non solo morale con la pacca sulle spalle da un punto di vista di obiettivi economici l'approccio cambia e non possiamo lamentarci se una persona che nel momento in cui viene inserito un piano premiale di riconoscimento diventa più performante perché è insido nell'uomo nel momento in cui ho una gratificazione ad un risultato sarò più incentivato a farlo certo sì anche tu finché parli mi sollevi un sacco di punti che tornano sempre comunque è proprio una questione di cultura di mentalità di approccio alle persone ma io torno sempre alla mentalità invece che comunque ancora è forte soprattutto con i liberi professionisti perché l'azienda necessariamente un bel giorno ha bisogno di qualcuno ok quindi può assumere bene o male ma assume nel mio caso io ho un problema di persone che hanno paura proprio di delegare perché perdono il controllo fondamentalmente che preferiscono gestire in autonomia fino alla morte lavorare anche 13 ore al giorno ma non delegare oltre a questo il fatto di non comprendere che il costo famoso non è tuo cioè quando ti dicono mille euro quando ho iniziato no erano un buon stipendio è come se li tirassero fuori di tasca loro ma in realtà chi li tira fuori è la tua partita IVA ok quindi comunque cioè bisognerebbe avere una mentalità leggermente più imprenditoriale quando si tratta anche no di crescere di controllare i propri numeri di avere cioè comprendere che anche tu che sei piccolo perché lavori da solo ma anche lì essere piccolo non significa a volte io incontro persone che hanno dei fatturati come una piccola azienda quindi non è esattamente che sei piccolo infatti confermo confermo che a prescindere dalla grandezza e dal numero di persone possono cambiare i numeri fatturo 100 fatturo 1 milione 10 milioni ma il rapporto e le percentuali Beatrice sono quelli cioè un professionista rimane professionista fino a che è da solo nel momento in cui comincia ad organizzarsi e assume delle persone contrattualizza dei collaboratori diventa vuoi o non vuoi un imprenditore e quindi io ti posso dire che introduco magari tre termini che possono spaventare ai più che sono controllo di gestione non è una cosa riservata alle multinazionali perché il controllo di gestione può essere fatto a diversi livelli un professionista che assume un collaboratore lo sai perché ha necessità di un minimo di controllo di gestione ma minimo e dell'individuazione di alcuni elementi di alcuni che hai da valutare perché perché tu devi essere conscio che quel valore di investimento che stai facendo su una persona si deve tramutare in un tempo che sarai tu a decidere in quanto imprenditore in quanto tempo deve essere ripagato per dirlo in maniera semplice perché altrimenti sai qualcuno potrebbe eccepirci il fatto che voi parlate perché magari è la vostra materia tu fai questo di mestiere quindi dire fare controllo di gestione poi fallo a me che sono un consulente finanziario te lo faccio immediatamente ipotizziamo di assumere una persona un consulente finanziario che deve assumere un impiegata che lo aiuti nello svolgimento della propria attività con un contratto full time in questo momento non interessa per il concetto un contratto full time dal costo di circa 27 mila euro l'anno fare un minimo di controllo di gestione significa per quel professionista capire se quel costo all'interno del suo conto economico può essere recuperato e a che livello cioè qual è quel livello di fatturato tale per cui quel costo non impatterà sul suo reddito finale e questo ce lo dice soltanto il margine di contribuzione che dipenderà da diversi aspetti perché esistono costi differenti a seconda di professionisti un professionista potrebbe avere una sede o non averla potrebbe avere dei costi che altri non hanno quindi ognuno di noi ha un margine di contribuzione cioè per ogni euro fatturato una parte di quel margine una parte scusate una parte di quel fatturato è il nostro margine che rappresenterà il nostro reddito bene se io aggiungessi un costo di 27 mila di 27 mila euro l'anno significa che per mantenere il mio stato di livello di reddito annuale quel costo deve corrispondere a ipotizzo faccio delle ipotesi a 50 mila euro di fatturato in più bene vedete come però vedi come Beatrice già stiamo cambiando approccio cioè ci stiamo dando un obiettivo so che devo assumere una persona mi setto verso più 50 mila quest'anno ci arrivo non lo so magari ho in previsione di arrivarci perché ho dei contratti probabilmente in in dirittura d'arrivo oppure so che ci devo arrivare in due anni ecco lì l'investimento il primo anno probabilmente il mio reddito sarà un po' mangiato da questo costo ma l'anno dopo vado in break even vado a pareggio dal terzo anno in poi ho guadagnato tempo e aumenterà drasticamente il mio fatturato questo significa coinvolgere le persone all'interno di un progetto se invece io grazie se io invece facessi una selezione e seduti a un tavolo alla persona che ho di fronte davanti a una domanda che ci sta perché io da candidato la farei quali sono gli obiettivi aziendali cioè oggi quanto fatturate quanto è l'obiettivo di fatturato di quest'anno dell'anno prossimo ma non lo so non me lo metto come obiettivo io mi alzerei e andrei via sinceramente io forse sono estremo ma i miei collaboratori conoscono il mio fatturato il nostro fatturato aziendale conoscono abbiamo appena condiviso gli obiettivi semestrali per capire che stavamo in linea con quelli annuali ma perché non solo perché loro partecipano agli obiettivi quindi hanno delle delle percentuali sugli obiettivi che raggiungiamo e ce li diamo sfidanti ogni anno ma lo faccio anche perché io amo far sentire coinvolti loro in quello che è il nostro percorso di crescita quanto è brutto quando tu parli con una persona che non sa nemmeno quali sono i numeri dell'azienda presso cui lavora poi probabilmente io sono un po' troppo estremo e quindi coinvolgo anche troppo nelle dinamiche aziendali ma un mio collaboratore è in grado di dirti quanto pagheresti tu Beatrice se diventassi domani il mio cliente lo sanno perché sanno quali sono i prezzi che applichiamo i trattamenti che applichiamo conoscono i processi interni ed esterni sono i nostri primi commerciali esatto perché credono nel nostro servizio e lo propongono all'esterno ma se io non li coinvolgessi non li rendessi partecipi del di ciò che avviene all'interno della mia di azienda come potrebbero loro pubblicizzare all'esterno un qualcosa che è offuscato anche per loro ma non solo ma io penso anche che ci sia questa perché nel mio caso ad esempio spesso e volentieri proprio perché ho liberi professionisti che fatturano veramente tanto si sentono quasi come dire che c'è questo questa porta a casa 1200 euro e io ne porto a casa 200.000 l'anno anche qui secondo me il controllo di gestione ti viene in aiuto nel coinvolgere le persone perché fatturato non vuol dire proprio niente nulla e tu puoi anche fatturare 200.000 euro ma mettiamo i costi cerchiamo di capire dove qual è appunto il margine perché spesso e volentieri le persone non conoscono il margine che hanno soprattutto quando fanno dei lavori di consulenza dei servizi dove vendono tempo dove vendono la loro disponibilità bravissimo nessuno conta le ore nessuno sa quanto tempo impegna un cliente cioè si fa un po' un alto e un basso giusto per però è tutto a spanne e quindi capisco che poi davanti a un'assunzione ti spaventa ma ti spaventa cioè il vero quello che vorrei trasferire anche a chi ci sta ascoltando che la vera preoccupazione è la tua non consapevolezza dei numeri la tua inconsapevolezza di dove stai andando e di che cosa accade perché non è possibile considerare le persone solo dei costi cioè è troppo non è al di là che non è imprenditoriale come pensiero ma non è paura di delegare è paura di non perché tu non hai il controllo tu sai dentro di te che non hai il controllo ma siccome controllare ti costa troppa fatica allora faccio a meno brava io ho paura di questo e noi l'abbiamo detto prima però se ci pensi tutto parte dalla mentalità dell'imprenditore o del professionista se lui o lei entra nell'ottica che è necessario cambiare approccio allora poi troverà anche la motivazione di farlo ma se resta fermo sulle proprie posizioni soprattutto poi magari ha un'esperienza passata perché poi parliamoci chiaro quando una persona dice certe cose relativamente ai propri collaboratori dipendenti è sempre frutto di esperienze sempre frutto di esperienze perché invece se tu continui a fare a reiterare una cattiva gestione del personale di sicuro non avrai cioè se una volta ti va male due volte ti va male tre volte ti va male fatti due domande che forse non è che senso però è faticoso però è faticoso mettersi in discussione è faticoso impegnativo mettersi in discussione e magari rivedere quello che è una propria convinzione io questo lo riconosco anche perché ripeto ci sono passato per primo e ti dico che è difficile ma anche io ma stai scherzando la prima eccezione che mi fanno sempre è proprio che io sembra che parlo in maniera facile però io lo dico sempre non è facile è complicato ma il risultato è fantastico se raggiungi i risultati è fantastico perché poi l'organizzazione tendenzialmente va a crescere tendenzialmente va a crescere salvo la voglia di rimanere magari con un solo collaboratore o con due ma per tornare al concetto di esperienza purtroppo è sempre frutto di esperienza ma questo vale per tutto una persona che cerca scusami se ragiono sempre per metafore ma a volte arriviamo diretti alle persone quando ragioniamo per metafore non parliamo con termini tecnici perché se volessimo oggi non far capire nulla chiunque di noi è consulente finanziario commercialista potrei parlare potrei parlare senza farmi capire ma non è non servirebbe a nessuno una persona che non investe tempo attenzione soldi nel comprare pensiamo alla cosa più utilizzata un'automobile nuova no? decido di prenderla usata non la faccio controllare mi serve velocemente domani dammi quella e prendi una macchina di vent'anni che ti lascia a piedi dopo tre giorni e il mio giudizio quale sarà molto meglio andare con l'autobus piuttosto della macchina perché la mia esperienza mi ha portato a questo ma probabilmente rivedi la parte di ricerca forse non hai cercato il giusto mezzo ti sei accontentato perché ti serviva hai speso poco e quello è quello che hai ottenuto ora è un po' forte portarlo sulle persone no no non è così forte è molto calciante come esempio ci sono delle similitudini investi tempo pagala bene tienila bene sto parlando no macchina persona tienila bene gratificala e vedrai che non ti lascia a piedi la macchina e vedrai che ti aiuta la persona la tua azienda cresce e il tuo giudizio non sarà che è meglio l'autobus perché l'esperienza ti ha portato ad avere uno scassone perché la colpa in quel caso è stata la tua che non hai dedicato tempo a quello quindi mi sento di consigliare l'investimento sulle persone per ottenere due cose tempo e maggiori entrate e soltanto l'organizzazione perché ognuno di noi poi è finito nel senso che può arrivare fino a un certo punto dopodiché oltre a più andare che poi non è anche questo non è per forza una colpa si sceglie anche a volte di lavorare in autonomia e da soli ma nel momento in cui si decide di crescere e di strutturarsi allora va fatto in un certo modo Massimiliano io ti ringrazio dato che penso che tu possa aver fornito informazioni molto preziose oggi ti voglio chiedere se ne avessi altre domande per te se ti posso richiamare quando vuoi perfetto Massimiliano ti ringrazio tanto grazie della tua disponibilità e alla prossima grazie a te Bea alla prossima ciao